Ciao a tutti amici di Studio Camurrina ben ritrovati sono qui all'aeroporto di Salermo, sto per dirigermi al gate 10, mi aspetto il volo per Torino Caselle, sono le 5 del mattino e tra un'oretta circa partirà appunto come dicevo il mio volo per Torino Caselle dove rimarrò fino a giovedì a Torino, poi è molto probabile che farò un salto a Genova questa settimana per poi ritornare a Palermo stavolta in Nava appunto da Genova e farò Genova a Palermo. Sono qui, sono qui per un'oretta, non mi resta che darvi un caloroso abbraccio, un saluto da Studio Camurrina dell'aeroporto di Palermo, Falcone e Borsellino. Ciao!